Stanno arrivando, è l'evento dell'estate, Masters of House, Giovedì 7 agosto, Pico Verde Custotta. Si alterneranno in console, Felix e Fregonese, Fabrizio Giugni, Pagani, Mirko Paoloni, Andrea Marchesini, Sacchi e Durante, Giubilò, Kick-O, Special Live, Luca Zetta, Masters of House. Giovedì 7 agosto a partire dal 19 con l'aperitivo in piscina al Pico Verde di Custotta, in collaborazione con V2 Living Clothes ed in diretta su Radio Party Group.